Pallo Gaming Channel e benvenuti in questa nuova live dedicata a Fall Guys ancora stiamo a zero vittorie dopo niente, zero, niente neanche una vittoria abbiamo fatto, neanche una vittoria sono riuscito a fare neanche una piccola vittoria ma oggi andrà diversamente oggi è il giorno della verità ma come mai non c'ho il titolo? ma non c'è il titolo ma non c'è il titolo perché non c'è il titolo? ma perché non c'è il titolo? perché non c'è il titolo? non ho parole non c'è il titolo non c'è il titolo non c'è il titolo aspetta un attimo aspetta un attimo un commento Yana Più ben tornato non ho un titolo non ho un titolo ma io ho messo il titolo e non c'è il titolo vabbè faccio un attimo una partita e poi devo fare mi collego dal telefono perché non aspetta un attimo messaggio di rispettatori ok ma mi collego un attimo da telefono perché perché è assurdo è assurdo sta cosa che io non ho il titolo un attimo mi devo andare tipo su impostazioni buonasera Yana Più benvenuto come si esce? come si esce? come faccio a riscommettermi? impostazioni risconnessioni allora non mi ricordo neanche la password che ho comunque nel canale quindi sono messi bene devo vedere un attimo che password ho messo non mi è arrivata la richiesta d'amicizia come non ti è arrivata? te l'ho inviata aspetta dopo provo a rimandartela ok io faccio sta partita e poi provo a mandartela uh era aperta sta volta ok qui no qui non si apre è la madonna ora che è sembramento scrivi ciao sono Rapallo Gaming ok ok ora lo faccio finisco qui e poi ti invio subito la richiesta aspetta perché qua c'è una complicazione in corso madonna c'è una complicazione in corso ok un attimo ok eh la madonna non so se mi sa che ho perso di nuovo vabbè tanto devo fare questa cosa qua urgentemente quindi oh no mi sono qualificato incredibilmente dai la password dove l'ho messa dove l'ho scritta dove l'ho scritta la password l'ho scritta qua l'ho scritta qui perché non la trovo non è questa dove ho messo la password dove ho messo la password eccolo qua allora spero che sia questa ok 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 ora devo poi prendere le mail oh madonna un altro solo belle ste scritte in cinese o in qualsiasi lingua solo uh che culo ok ok si abbassa a posto ebraico ah in ebraico mia madre studia ebraico che coincidenza oh ma non si abbassa sta paura madonna madonna ancora un attimo solo abbassati perfetto dai posso farcela vai non ci credo non ci credo non ci credo non è possibile non è possibile non è possibile ho un attimo solo che devo collegarmi ora è un po' un casino non è possibile non è possibile ok comunque un attimo solo che adesso provo a fare una cosa ok ragazzi devo entrare da telefono perché non c'è titolo in sta diretta hai modificato il personaggio si ho modificato il personaggio ho sbloccato sta cosa bella sta skin devo fare un attimo una cosa importante arrivo subito ok un attimo solo hai detto ai miei amici ho detto ai miei amici seguirti non so se l'hanno fatto vabbè non ti preoccupare non importa grazie allo stesso della tua condivisione ok poi in teoria eccolo qua eccolo qua ok vediamo se ora va un attimo solo poi ti invio la richiesta ovviamente ok aspetta un attimo che ora ti leggo dico dico se il stub perché twitch loro non lo hanno ah ho capito e non lo so se lo hanno fatto non so se lo hanno fatto ma anche se lo hanno fatto non ti preoccupare ora io qua devo verificare questa cosa qua se non lo mi fa cedere ok andiamo oh ora ci siamo ora ci siamo ho anche accettato la tua richiesta d'amicizia e ora ah no si che l'ha messo il titolo io ho fatto tutto questo per niente ho fatto tutto questo per niente ok vabbè io direi quindi devo inviarti una richiesta adesso in teoria quindi sei ora no ci ho tra gli amici jana 332 013 ti ho tra già tra gli amici ti ho già tra gli amici comunque quindi gg ora comunque sono ufficialmente uno stream ovviamente questo qui ok comunque se vuoi giocare io ci sono ovviamente se vuoi non ti non ti costringo alle 14 posso domani eh peccato che domani sono in campagna da mia nonna vabbè non ti preoccupare la parola più cercherò di fare anche live il pomeriggio ma è molto difficile il solito pomeriggio sono impegnato in faccende goliardi oh cavolo tra l'altro sta mappa è quella che porco demoni tramezzini di nuovo oh dai ok ho capito un trucco ho capito il trucco ho capito il trucco però di sta mappa devi tipo buttarti con quadrato oh cavolo ho capito il trucco ho capito il trucco ho capito il trucco di questa mappa ahia che dolore che botta vabbè ora qua ovviamente si salta cerco di non cadere ovviamente cado ovviamente cado che culo quello è caduto alla fine dai posso farcela inizia a prendere la carta igienica è già qua è già qua ok nice no ormai sono esperto ormai devo riuscire a vincere no ormai ci sono ormai ci sono ormai ci sono porca miseria no ormai ci sono dai no non è possibile qualificato ovviamente ovviamente eccoci qua eccoci qua no adesso oggi ce la facciamo oggi 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 ce la devo fare no oggi esigo di farcela ok 45 qualificati va bene vediamo il prossimo gioco questo non so cosa sia non ho capito non si capisce niente non si capisce niente non si capisce niente devo prendere devo catturarli che devo fare che devo fare don't get jinxed ok e che vuol dire che vuol dire don't get jinxed già che devo scappare ah jinxed è quello ho capito devo scappare devo scappare aiuto aiuto ma io non posso catturare ad esempio lui no cavolo non darmelo ok non lo devo prendere io stiamo calando siamo 11 aiuto 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 non prendermi non prendermi non prendermi non tenermi fermo uff sto scappando u77 sta mappa è roba strana assolutamente si ha il più questa mappa è stragiata no no bastardo mi ha catturato ma dai no dai per favore per favore tre dai 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 per favore dov'è il tizio senza il coso è qua sopra no ti prego per uno non farmi eliminare per uno no per uno no ti prego non per uno no per uno no per uno no non ho parole 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 per uno stronzo che mi si è fatto beccare vengo eliminato non ho parole ste cose squadre non le devono dare non le devono dare queste mappe squadre devono dare le mappe in sole basta perché questa squadre perdo per colpa degli app oh my god Gesù non ho neanche bestemmiato una volta in non so quanti minuti quindi per piacere per piacere per piacere fammi vincere fammi vincere ho ancora non ho neanche usato un po' della carta igienica quindi sono a posto fall guys non ho paura di te fall guys non ho paura le porte il gioco che più riesce meglio perché riusciamo a percepire tutto secondo me questa porta davanti quella porta davanti lì è quella migliore guardate porta migliore ci scommetto che cade guarda cade subito guarda adesso ancora davanti cade come l'ho detto come l'ho detto come l'ho detto questa qua cade questa qua quella la cade quella la cade vabbè questa qua cade oh madonna che cattivi che sono che spingono così guarda guarda che sembramenti tutti assembrati proprio schifosi dai ti prego dai ti prego anche io dai dai no questo gioco delle porte è roba che appena si apre la porta tutti vanno addosso infatti tutti vanno addosso e passano loro per primi esatto è proprio un casino infatti adesso mi sa che non mi sono neanche guarda che strunzi cioè ma tu guarda guarda che pezzi di merda guarda che pezzi di fango che pezzi di fango mi hanno tutti spinto come l'hai spesa quando fai a fare la spesa e si fa la gara per la fila assurdo assolutamente si questo gioco se si fa nella vita reale in questo periodo si muore di covid al 100% non ho parole sto insinuando di questo gioco al covid questo gioco al covid secondo me dai io scommetto che se vinco riesco 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 a sbloccare qualcosa di importante darà sicuramente un premio importante perché qua è difficilissimo vincere non so quanto è quello più bravo del mondo quante vittorie abbia ma lo devo lo devo superare ce la posso fare ok questo è easy dai questa è una cazzata questa è una cazzata questa è una cazzata questa è una cazzata dai questa è una cazzata questa è una cazzata non posso perdere vai ok questa è una cazzata vai ok quella porta ci piega un sacco di tempo questa invece va via subito vai vai perfetto ma perché se cade questo sacco di patate questa va questa va questa va su dai dai vai 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 via 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 porca mi sa sto coso qua ok qua devo saltare salta di qua salta di qua salta di qua vai 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 si qualificato qualificato easy 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 questo poveretto guarda che poverino poverino non ce l'ha fatta starà bestemmiando tieni di presto un po' di cartigenica ok ciao 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 no davvero adesso qual è il prossimo round il prossimo round verrà vinto il prossimo round verrà vinto basta che non è a squadre se mi dà una cosa a squadre davvero capace che mi incavo cos'è cosa dai tu dimmi questo della coda cos'è cos'è è impazzito oh no una cosa ah no questo oh si 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 lo conosco già lo conosciamo già bene lo conosciamo già bene questo gioco easy posso farcela posso farcela nessun problema nessun problema la tattica fatta da me per il minigioco che se tocchi cadi i vari piani buttarsi all'ultimo livello e farei tutto la più piccola e quella più grande così la gente al centro e loro muoiono insatti c'ero capitato là e non sapevo come gestirla adesso provo a usare questa tattica qua che dici te secondo me mi aiuta oddio non morirmi almeno qua no almeno i primi no guarda che stronzi spingono ma vai a cagare perché spingono spingi diciassette ne devono morire addirittura guarda vedo uno si spingono sono cattivi si spingono no no oh non cadere non cadere faccio avanti e indietro di qua faccio avanti e indietro avanti e indietro avanti uno è caduto già poveretto oh vado qua blu vado qua oh no ok ok oh no cadere putta che culo non so se hai capito quale livello è quello lì ci sono tutti i piani no quello lì lo conosco si 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 che culo stavo per cadere lo conosco ovunque quel livello che dici te quello con tutti i piani che culo qualificato qualificato mio dio eh quello lì è veramente difficile quello lì è un livello davvero difficile questo non ho capito cos'è dai le uova su un po' di culo questo qua serve il culo serve il culo in questo eh si si quel livello là di solito te lo mette me l'ha messo una volta poi mi ha messo un coso strano ok dai posso farcela devo mettere il coso nel mio robo perfetto uno messo dai rubo l'uovo prendi l'uovo prendi l'uovo non mi rubare l'uovo ok posso farcela devi atterrare al centro e fare rotazione dici rotazione provo a capire oh ma hai rubato l'uovo dai siamo a 20 no l'uovo ok oh e madonna da una materlata nei coglioni ruba i blu hai ragione in blu dove sono no ruba i rossi ruba i rossi aspetta ruba i rossi vai ruba i rossi no l'uovo no stanno rubando le uova a noi dai che rubo ruba tutto ruba tutto ruba l'uovo ruba l'uovo prendi l'uovo oh ok dai si rubo già no ma perché cade dai per favore devo rubare i blu basta e ho capito e lasciami passare devo rubare i blu devo rubare i blu per sopravvivere guarda 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 vai vai l'uovo offronato via prendi l'uovo prendi l'uovo giallo prendi l'uovo giallo buttalo dentro buttalo dentro giallo 17 ruba i blu infatti infatti dai blu dai blu sono morto non hanno più nulla e vai qualificati con i blu è easy si con i blu è stato easy è stato molto easy ci si avevo fatta ciao blu ciao 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 blu ok 16 per una volta mi sto avvicinando all'obiettivo finale cioè ci sto riuscendo sono quasi arrivato all'obiettivo finale non ci posso credere ok adesso lo faccio questo è calcio io sono legato nel calcio sono legato nel calcio quindi non so cosa ancora giochi di squadra devo fare gol devo fare gol semplicemente devo fare gol devo fare gol non c'è un portiere devo fare gol ma no non da noi ma non da noi stupidi perché mettete la palla nel nostro dovete mettere dagli altri ma non sapete giocare a calcio ma perché la mettete da noi ma c'è uno tocco il cretino qua è impossibile qua è impossibile ma se me la devo giocare a calcio tra iarda ma io il calcio sono troppo troppo difficile dai però anche la mia squadra è nabba il calcio e buttaglielo dentro buttaglielo dentro ma guarda che questi qua sono dei calciatori dai ma quel coglione giallo la mette dentro al nostro buttatela dentro buttatela dentro a noi oh guarda che portieri formidabili dai 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 si figa però non fanno niente la mia squadra non fa niente buttatela dentro oh non glielo buttano non glielo buttano la mia squadra non fa niente guardali dei no dei bot buttateglielo dentro quello si chiama tutti tutti Ronaldo sono tutti Ronaldo si dai vabbè 3 a 0 dai dai ma sono la squadra di handicappati aspetta ma la posso prendere la palla ma la posso prendere ma posso prendere con R2 si vabbè figa figa no basta 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 dai basta non può mettermi calcio ma poi la squadra ci ha fatto gli autogol sono fatti autogol ci sono fatti autogol sto dog ce l'ha con noi guarda questo dog questo dog la vuole tirare la vuole tirare non ho parole abbiamo perso abbiamo perso figa abbiamo perso questo dog ce l'ha con noi la vuole tirare dentro ma affanculo dog di merda questo dog di merda vai a cagare la vuole mettere dentro guarda guarda questo dog guardalo un maledetto dog guarda ti butto dentro vabbè mi suicido guarda mi suicido via mi suicidio non è possibile un dog di merda veramente un dog di merda vaffanculo guarda sto fermo faccio i balletti non ho parole ma perché devono mettere sti giochi a squadre ma perché devono mettere sti giochi a squadre eravamo arrivati in finale questo dog di merda madonna questo dog cosa adesso Kraus e magari colonna o dog di merda veramente 0-8 gg veramente 0-8 gg ma infatti non ho parole ma perché non mettono i giochi in solitaria mettiti i giochi in solitaria non con della squadre che vanno contro di me tra l'altro ma neanche mi aiutassero no fanno autogol credi quei gol sono fatti autogol perché quelli lì pensavano che la palla deva essere messa da noi ma non giocano a calcio io non lo seguo il calcio però lo so benissimo che vada la parte avversaria la palla ok il gioco delle porte devo solo sbloccare l'ultraistinto easy sbloccare l'ultraistinto hai mai vinto no non ho mai vinto da quando l'ho iniziato ieri in live non ho ancora vinto niente non devo provare a vincere ci devo riuscire adesso sto finché non vinco sto finché non vinco una partita non mi interessa se ci piego tutta la notte stavolta veramente stavolta ce la devo fare beh minimo 5 del mattino no minimo 4 del mattino dai 4 del mattino sto fino al 4 del mattino per vincere allora questa porta si spacca che tu hai detto quella porta si spacca questa qua lo sapevo questa porta si spacca bravo sei un hacker è un hacker questo ma è un hacker ma è un hacker come fa a saperlo è un hacker fermatelo fermatelo è un cheater sa già le porte fermatelo dai ma devo capitare con i cheater ma sono capitato con un cheater ma questo è un cheater ma questo è un hacker sapeva già tutto quello è un hacker fermatelo no dai sto giocando con un hacker no è un hacker sa tutto non parole quello lì è veramente un hacker guardano spero che lo espedano dal serio non è possibile c'è l'unica volta che vinco e capito c'è l'unica volta che ho la possibilità di vincere magari e capito con un hacker non parole gioco di squadra per l'unico modo adesso devo mettermi i giochi di squadra è ovviamente un gioco oh oh no questi giochi li odio li odio li odio questi giochi li odio davvero li odio davvero questi giochi di squadra ok non devo prendermi quella a fare lì se no è la fine quindi scappo e mi nascondo dietro di qua così non mi trova nessuno ok sto qua così non mi trova nessuno in teoria lo aiuto no me l'ha attaccato dai non ci credo vai vieni qua vieni qua maledetto oh gliel'ha attaccato tiè adesso dai gliel'ha attacca dai gli attacco a questo a questo qua vai dai che glielo prendo dai che ti prendo tac preso ma come no ma come non gliel'ho attaccato oh presi guarda tutti presi tutti ho attaccato il covid sto attaccando tutto il covid guarda sto contagiando tutti quello quello questo questo è quello più brutto che palle guarda sto gioco è orrendo orrendo però almeno mi sa che l'hacker ha perso questo è il gioco più orrendo di tutti mamma mia che palle oh che palle devo farcela devo farcela adesso devo mettere questa non ho altra scelta non avrei mai dovuto usarla adesso non ho scelta devo usare questa questa maschera mi rende più potente non ho scelta ok adesso grazie grazie a questa maschera da giullare riuscirò a vincere con questa vinco di sicuro con questa vinco di sicuro con questa maschera da giullare questo è l'unico modo questo è l'unico modo questo è l'unico modo questo è l'unico modo vinco di sicuro adesso perché adesso vedo le porte giuste quella là si apre easy questa si apre non è vero maschera infame madonna mia assemblamenti sto gioco fa diventare deficiente è perché ho questa maschera eh sì fa diventare deficiente infatti mi sto diventando stupido sempre più stupido devo fare le live dove leggo i libri così divento intelligente aspetta un attimo ok 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 però sto vincendo con la maschera sto vincendo sul serio con la maschera incredibile sto vincendo davvero con la maschera la maschera aiuta la maschera aiuta la maschera aiuta è una tattica è una tattica devo farci qualificato posso farci basta che non mi metti quel gioco di merda cosa hai messo ancora 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 questo gioco di merda ancora ma quanto me lo vuoi far fare ancora basta oh madonna ti piace proprio questo gioco di merda del covid mi piace proprio questo gioco del covid aspetta che me la levo mi sta dando molto fastidio oh madonna mi sta dando un po' fastidio sta maschera ok ora mi sento più libero davvero fastidio no 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 non attaccarmi il covid provo a scappare no quanta gente col covid scappo 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 troppa gente col covid annotate partito 21-22 si infatti oddio troppa gente col covid scappo 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 lo aiuto uno col covid devo scappare oh no uno col covid dove attaccarmelo oh non ha attaccato il covid lo aiuto troppa gente col covid e me l'hanno attaccato me l'hanno attaccato il covid adesso quel tizio lì si vabbè ma perché ogni volta questo gioco è a mio svantaggio comunque non è possibile questo gioco è a mio svantaggio secondo me lo fanno apposta per non farmi vincere taglielà il tizio prendetelo pigliatelo quello là quello là pigliatelo uno a uno uno a uno cosa ma cosa tutti morti no scusa ti vuole far perdere guarda le live si ho visto ha fatto partire con uno svantaggio abbiamo perso entrambi perché ho perso io ma scusa ma scusa eravamo uno a uno non ho parole cioè se è uno a uno elimina uno a caso assurdo assurdo non ho parole si 21 a parte questo che sono partito di svantaggio non è giusto dovrebbe mettermi uno di qua e uno di là non uno e meno a noi va bene se vi metto un'altra volta quel gioco io cambio gioco no dai poi ho accittato 21-22 ma infatti ma infatti ma infatti ha accittato questo giorno non è possibile davvero sono setta parole setta parole sono alibito sono alibito sono alibito da questo gioco ok adesso allora allora questo è anche un gioco che ho oddio le moti con le metti eh ho visto devo essere 50 follower devo avere 50 follower e una media di 5 spettatori e io non ho né 50 follower né una media di 5 spettatori mi sono messo male però col tempo dai ci arriviamo col tempo la mia seconda live sono ho la categoria mi sembra oddio ce la sto facendo per una volta per una volta ce la sto facendo media due spec no ho visto media 5 spett forse ho visto male ho visto media 5 spettatori media due spec ok oddio sto andando bene a questo gioco per la prima volta nella mia vita non ci posso credere ecco ovviamente cado all'ultimo cosa ma che cavolo è successo ma che cavolo è successo per tutti i morti come degli imbecilli come degli imbecilli oh yeah no te sei a media due spec no si io sono a media due spec sì quindi ce ne vorrà ancora molto mamma mia ma se vinco secondo me si sblocca tutto ok qua ce l'ho fatta qua ce l'ho fatta e tutti cadono e qua tutti cadono giustamente giusto giusto tutti cadono 44 qualificati ok andiamo al prossimo il prossimo qual è non dirmelo non voglio vedere non voglio vederlo non dirmelo guai a te guai a te se mi rimetti qui no è un altro ah è un altro per un attimo per un attimo per un attimo ho pensato il peggio per un attimo no sto gioco per un attimo ho pensato il peggio per un attimo ho pensato il peggio Iana per un attimo ho pensato il peggio ok qua non dai qua meno male ma meno male si porco demonio però non è che questo sia tanto più semplice questa allora adesso qua devo concentrarmi se non devo cadere se cado è la fine dai vi lancia vai così ok no 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 ti prego vamo vai ti prego ok easy sei un checkpoint molto bene pure io ho messo quel gioco lì anche te hai pensato a questo ah no io ho pensato anche io a quello là assolutamente l'aveva messo poi si vede che ha capito porco demonio perché cade sempre sto sto rintrici 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 oddio ok adesso devo concentrarmi allora ti prego ok un altro checkpoint dai 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 ok ok io l'ho pensato assolutamente ha messo le bolle aveva messo lo stava per mettere ok dai ce la sto facendo dai ti prego dai ti prego stavolta fammi qualificare ma abbassate il coso viola abbassate il coso viola guarda guarda adesso che mi spingono dai 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 DAII DAI 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 DA dai ce l'ho fatta ce l'ho fatta ce l'ho fatta due su due due su due abbassati cazzo veramente ce l'ho fatta finalmente oh finalmente veramente due posti mi sa che questo non ce la fa rip ok ora lo ti cadranno ciao ciao a tutti 32 rimasti 32 rimasti vuoi farmi fare la strada più lunga se ora mi mette quel gioco non mi interessa non mettermi quel gioco là si per quegli altri rip assolutamente non mi mettere quel gioco lì eh cos'è ok ok va bene questo ci può stare questo posso farcela gioco di memoria un gioco di memoria ok gioco di memoria di sì posso farci posso farci stai ai lati sì sì assolutamente devo ricordarmi gioco angurie banane e angurie e banane ok dove devo andare angurie o banane c'è angurie o banane dimmi l'anguria così sono già qua banana quindi dov'è qua di là siete sicuri che culo c'è ba ora mi spingere e ha fame non mi spingere banana banana uva l'ho vista uva l'ho vista dov'è dimmi sull'uva dimmi sull'uva dimmi sull'uva secondo me va sull'uva l'uva è qua l'uva è qua l'uva è qua dai cos'è questa uva dai mi dimmi uva che cazzo è dov'è quel frutto porco tuo porco tuo no oddio che culo dove devo andare qualificato che ansia veramente che ansia ok oh ce l'ho fatta veramente che ansia questo gioco dai ciao a tutti è stato bello ciao ciao uno uno è morto solo uno ok andiamo al prossimo dai prossimo oddio cos'è questo cos'è questo non lo so ah ok ho capito qual è ho capito ok seriamente uno si è morto solo uno non ho capito a cosa è servito sto ok questo ho capito questo lo conosciamo dai qua è fatta dai qui è fattibilissimo qui è fattibilissimo posso farcela dai qui è fattibilissimo qua 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 è fattibilissimo dai qua è fattibilissimo dai qua è fattibilissimo 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 qua è f muore nessuno è avanti ma non troppo sì 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 hai ragione un po più avanti dovrei starci così qua era rischioso perché se mi spingono qua dai qui ancora morto nessuno tattica si uso la tattica sarà avanti oddio eh oddio oddio no ok non è ancora morto nessuno no 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 oddio sto blocco non cadere non cadere aiuto aiuto no aiuto 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 dai 5 sono morti eh stai diventando rischioso stai diventando rischioso stai diventando rischioso ok ma non unici ne sono morti eh un attimo solo un attimo solo un attimo solo poi ti leggo un attimo solo uff sì veramente uff no no aiuto per favore porco dio porco dio porco dio no parola dai vero le ho dette tre ah sto aspettando no per due forse per due per due per due sono vivo? no sono morto per tre per tre era per tre mi sembra mi sa per tre vabbè abbondiamo per tre oddio questo è già morto bello sto vedendo una cosa poetica bello quello che sto vedendo è molto poetico wow è stupendo però io vorrei vorrei andare a giocare perché non ho molto non ho molto tempo quindi cioè io te la direi di andare a giocare è molto bello quello che sto vedendo un po' etico stupendo però io ho fretta ecco cioè io ci avrei fretta ecco ecco eh non ho parole non ho parole no parole no parole cioè io ci provo e ci ritrovo la carta igienica sta finendo oh eh non pensate mai vai tre pezzi per piacere non posso perdere posso perdere ti prego mi discuso per le bestemmie che ho detto ti chiedo scusa non l'avrei dovuto dire non le penso davvero però non penso che tu sia un porco in nessun modo lo penso te lo giuro non lo penso però devo vincere quindi un po' di rabbia mi viene io ti chiedo scusa per quello che dico ma ti assicuro che tra me a te non è cambiato nulla poi vogliono molti con la carta igienica assolutamente ok beh allora assolutamente molto di una carta igienica la devo mettere ormai qua easy qua sono avanti anche abbastanza a tutti più o meno più o meno avanti a tutti o qua non passa non si passa qua le palle sta attenzione alle palle ok 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 per più o meno un per botta che ho preso che botta che ho preso via easy qua le faccio cadere tutti faccio cadere tutti qualificato easy easy posso farcela posso farcela qua vabbè ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti devo riuscirci devo riuscirci per il potere della visione di breaking bad le sto vedendo le sto vedendo breaking bad 41 rimasti per il potere della visione di breaking bad le devo farcela oh no è caduto un pezzo di carta igienica ok così va meglio devo farcela devo farcela ce la puoi fare dai qualificato ok il gioco questo qua dai è fattibile ce l'avevo fatta dai devo farcela io veramente ci sto provando da questa qua è la seconda live ma io vorrei riuscirci subito poi un giorno porterò mia mamma a giocare a questo gioco magari ci farò o una live o un mini video aspetta un attimo vola 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 ok ok qui adesso devo andare in quelle dove ci impiega meno tempo ok beh ci siamo messi bene dai una live con tua madre la porta a giocare a questo gioco se noi ho pieno pomeriggio ovviamente non la notte dai vola si si ce l'ho fatta ce l'ho fatta ce l'ho fatta oh mio dio oh mia nonna la mia nonna non può quindi no ok 29 qualificati non male non male davvero pure tua nonna no lo so vedremo quando finisce il covid per festeggiare partita full guys ok slime climb l'odio 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 questo gioco l'odio questo gioco è l'odio l'odio ed è l'odio questo gioco l'odio ma è anche l'odio ok non approfittarsi che ho paura non ce n'è covid eh magari vabbè qua da noi non ce n'è davvero però ah qua ecco questi qua usano i trucchetti ora li uso anch'io per fare prima quindi li uso anche sinceramente questi trucchetti qui questo è impossibile io davvero non so come fare questo affare devo farlo tutto di fila ah no questo no ok non ero mai adatto perchè 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 siete delle vecchiette siete delle vecchiette siete delle vecchiette dai porco tuuuu bello bellissimo bello potete spiegarmi che cos'è questa merda bello eh sì concordo 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 sì sì giusto ma poi anche la parte dopo sì esattamente così esattamente così più o meno più o meno sì 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 clippatela questa questa clippatela clippatela mamma mia si cassa sempre sto gioco io sono George sono una donna sono una madre sono cristiana io conosco una due tre quattro George ti prego lo so George Amenoni ti prego questa carta igienica non la metto per quella non è proprio una bestemmia quindi ho detto porco duio tipo vabbè quarto pezzo dai quarto pezzo quarto pezzo quarto pezzo o no è caduto un pezzo è caduto anche un altro pezzo dai quarto pezzo più o meno più o meno ok sono pieno no ho già meloni in ebraico ma tu studi ebraico ho il gioco delle porte Garfield Garfield dove sei? Garfield donami il tuo potere da gatto Garfield dove sei? vabbè povero Garfield ti prego questa porta si apre non sono convinto porca miseria ti prego oh che culo strade alternative no non si aprono ma perché scelgo strade alternative devo seguire la massa devo seguire la massa eh sì però che stronza la massa è proprio stronza questo è greco ma tu studi greco? oh mio dio oh mio dio oh mio dio forse ce la faccio forse mi qualifico forse forse se non spingono questi bastardi sì qualificato questo è il greco qualificato bellissimo ok questo gioco non lo so non so com'è questo è arabo questo è arabo questo è arabo 100% arabo questo gioco questa lingua qua questa lingua è 100% arabo un ducu un ducu mai sentito l'un ducu aiuto aiuto mamma mia oh mio dio oh mio dio oh mio dio mi stai aiutando un troppo sì grazie è fatto arrivare tra i primi praticamente no porca miseria ok 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 più o meno ci siamo messi bene non è arabo eh ma io non le conosco in queste lingue ok ora in teoria devo andare di qua senza paura senza salto ok 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 porca puttana porca eva porca eva ti prego ti prego si dai però figa 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 è caduto un pezzo di tempo in Gerica figa porco dio porco dio ti ho cane porco dio porco dio porco dio ma stiamo scherzando ma questo pezzo è palo di merda no parole sto palo di merda dai non è possibile sto palo di merda no dai non è possibile non è possibile non è possibile non è possibile ormai ecco non è possibile e non è possibile ma Fra ti stimo troppo, oh mio Dio, eh no, uno, ci siamo. Posso farcelo, posso farcelo, posso farcelo, easy, easy, ora che ho tutte queste pezzi di carta igienica, posso farcelo, posso farcelo, posso vincere, nessun problema, nessun problema, posso farcelo, posso vincere, easy, 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 no problemi, vinto, qua vinco, ora vinco, basta, io mi potenzio, mi potenzio come il Super Saiyan, sarò imbattibile, adesso, adesso basta, adesso basta, o no, no cazzo, aspetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Ovviamente, 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 vinta, ovviamente, c'era anche, da chi adesso, da chi adesso, da app, da app, da volute, easy, potente, imbattibile, adesso, da app, da app, da app, carta igienica, questo però è impossibile, questo però è ti prego, ti prego, ti prego, sempre una palla di là, guarda, 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 oddio, grazie, quel tulipano m'ha salvato, quel tulipano m'ha salvato, quella lì, ok, oddio, non sto morendo, quel tulipano m'ha salvato, quel tulipano, quel tulipano! grande è il tulipano, 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 l'hai creata te? Bella, sembra l'infinito, una cistortia, ah, ho capito, un attimo, un attimo che poi voglio leggere. dai, 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 abbassati, adesso abbassati però, dai, adesso, sto ponte viola, sto cazzo di ponte viola, ponte viola, ma ti ho carne, ti ho carne, ti ho carne, ti ho carne, non si abbasta, un altro pezzo di carta igienica, oh, ce l'ho fatta, no, non è il miele emotico, il tulipano, una cistortia, ah, è una c, io carne, no, vabbè, ho vinto, ho vinto, ho vinto, questo cosa sta facendo? qualificati, sciocco, game over, è a posto, vinta, ok, sono qualificato, beh, devo vincere, mi sono riempito di carta igienica, per vincere, carta igienica, posso farcela? posso farcela? posso farcela? uff, pensavo per un attimo a quel gioco di prima, per un attimo ci ho pensato, per un attimo ho pensato a quel gioco di prima, per un secondo soltanto ho pensato che mettevano quel gioco la del covid, no, questo cos'è? cos'è questo gioco? che devo fa? se vai un giro così, no, un giro così, a scuola così, devo prendere le code, devo prendere le code, ah, devo prendere la coda, ok, devo prendere la coda, ho uno scemo, dai, devo rubare la coda in un minuto chi la rubo la coda, mo? o devo rubare la coda? vai, ho una coda, no, bella rubata, dove sto, ridammi la coda ladro dai, ridatemi la coda, ridatemi la coda, dammi la coda, dai ti prego, dammi la coda ladro, me la ravevo pezzo di merda, tu, coccodrillo, coccodrillo, vieni qua, do, coccodrillo di merda, coccodrillo di merda non mi ha dato la coda, vai, rubala, rubala, rubala porco dio, porco dio, porco dio, porco dio, porco dio, porco dio, porco dio ripeto una volta 100 messaggi, porco dio, porco di quel dio, porco di quel dio, no adesso basta ma dio caro quanti ne devo metteremo oh ma dio oh ma dio sotto le cuffie in teoria ci dovremmo essere ci dovremmo essere ancora quanto ne devo mettere ancora non ho fatto il conto ma in teoria ci siamo in teoria ci siamo in teoria ci sono aspetta porco demonio porco demonio devo rimetterli tutti mamma mamma oh madonna oh madonna oh madonna oh madonna oh madonna ah dio mio sti cuffie stai portati parola 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 se fai qualcosa assim direi che è direi che è direi che è direi che direi che direi che direi che direi che ci siamo ok andiamo va bene direi che ci siamo qua ce ne saranno almeno 15 pezzi di cardigeno direi che ci siamo dai che ma mia io ho fatto 1 1 1 1 ok ok easy easy adesso c'è la carta igienica sopra la mia testa sta oprimendo i miei neuroni i miei neuroni stanno tutti esplosendo quasi stanno soffrendo i miei neuroni 2 1 ok qua si abbassa passa veloce uff per il tempo eh magari donate magari donate ho failato eh ho failato eh si hai failato aspettando un attimo su giù ok ok ora devo andare dritto per così salta oh che culo qualità per il tempo eh hai failato mi donate 500 euro eh si si ma che non ci sono neanche le donazioni ma come le ho messe no non le ho neanche messe io le donazioni come era fail fail no era normale easy in questo livello easy ce l'abbiamo fatta vittoria uff devo qualificarmi ancora devo qualificarmi ancora oh così sembra reale così sembra reale però tutti sti soldi neanche sono ricco eh si si veramente non hai tutti sti soldi sei ricco e anche donald trump ha tutti sti soldi e anche donald trump ha tutti sti soldi e anche donald trump ha tutti sti soldi nooo cos'è sto gioco palla a volo palla a volo magari qua sono più esperti ma non so come funziona cosa devo fare ah devo devo ah devo mettere i palloni nella nostra sezione ah ok devo prenderli e metterli nella nostra sezione donald è stato bannato dal canale ma come donald è stato bannato dal canale un ban donald perché dai bannato donald donald trump perché volevi bannare donald trump magari donald sarà il mio quarto follower se lo merita vabbè in effetti donald trump se lo merita davvero di essere bannato dal canale però magari questo donald è un bravo ragazzo dai però ci stiamo perdendo figa vabbè ma quelli rossi stanno a zero no 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 gialla due a voi due no dai quelli rossi eh tre dai stiamo a tre dai stiamo a tre stiamo a tre stiamo a tre 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 qualificati let's go salvini no salvini no salvini no neanche vabbè salvini se lo merita anche lui però questo salvini magari è bravo non bannare salvini anche se non è se lo meriterebbe però magari sarà il mio quinto follower meglio non bannare nessuno per ora la smetto ok vabbè no allora non banniamo nessuno sennò oh no questo no questo no questo no questo gioco è difficile sto gioco è difficile c c c c c r c questo gioco è difficile oddio 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 no ci avevo sperato giuro che ci avevo sperato oh sperato oh ma perché mi spingete no aiuto porco demonio porco demonio porco demonio porco demonio mi spingono tutti da uè da uè da uè no no ho 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 Vaffanculo Vaffanculo No io piango Basta 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 Ho bestemmiato nella mente Per questo l'ho messo qua Assurdo 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 Cioè È d'assurdo Io non sape cosa fare Va bene Vi Ma perché Ma perché Ma perché Perché tu stai Perché Va bene Vediamo un po' Tutti piangiamo Piangiamo tutti Piangiamo tutti Piangiamo tutti Ok Ok Già posso fare Ma è tanto Mi aiuta La sbarra Easy Ok 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 Posso farcela Ok Ok Porco Porco Dio Lo so Pezzo di ca- Porco Dio Due pezzi Porco Dio Tre pezzi Oh Ce l'ho fatta Oh ce l'ho fatta Easy Easy Lemon Easy Per due Lo so Eeeh 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 Ok Ok Per tre Ult E' finita Finita il canticello Devo riusare la stessa Devo riciclare E usare la stessa Cartigenica Mia madre Si incazzerà di brutto Ho sprecato Un intero Queste sono tutte Le bestemmie Che ho detto Cioè queste Sono tutte Le bestemmie Che ho detto Un intero Cosa di cartigenica E' andato distrutto Io ho detto Per ogni bestemmia Un pezzo di cartigenica In testa Questo è il risultato Fall guys Colpa tua Sappiro Un intero barato Non posso più bestemmiare Cioè se bestemmio Non ho niente Mi metto questo Non ho più Non ho più Carta igienica Non ho più Carta igienica Non parole Un intero barato Sono andato distrutto La userò Con i miei figli Bravo Vai bene Ok no Quella squadra Nel team Che devo fare Ok Il nuovo sto gioco D'accordo Scaricato il joystick Scaricato il joystick Che devo fare Aspetta Devo prendere Le altre palle Devo rubarla ai rossi Oh È caduto Un pezzo Noi ne abbiamo zero Ma come ne abbiamo zero Ok Devo rubarla ai blu Dobbiamo rubarla ai blu Quante ne hanno troppe i rossi Devo rubarle ai blu Dai No ne abbiamo una Ne abbiamo una Una e basta Vai Dai prendete Dai ma che cazzo Ne abbiamo zero Porco due Dai voi Non Dai Mi 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 No parola. No parola. Va fanculo. No parola. Non ho parole, non ho parole Perché mettono sti giochi a squadre? Perché sti cazzo di giochi a squadre? Mettimi un gioco in solo È tanto chiedere un gioco in solo Cioè è tanto Madonna È tanto chiedere un gioco in solo Non tutti sti cazzo di giochi in squadre che perdiamo sempre Perché abbiamo squadre incapaci Porca miseriaccia ladra Non mi sembra tanto chiedere solo giochi in solo Dice che sono in sole Magari così andrà meglio Magari così va meglio Così devo farci Confirma Mamma mia È assurdo È assurdo La carta igienica mi è andata a finire qua Ovviamente è assurdo Porca miseria Porca miseria Leva, 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 leva Ok Lei Io sinceramente faccio Ho detto alle 4 di mattina Ma sinceramente La vedo dura Guarda La vedo molto dura Io ci provo Io ci provo La vedo dura Mi sa che mi andrò a mangiare tanto di quel gelato Mi guarderò Breaking Bad Depresso Se non vinco questa Dai No perché si mette quei giochi a squadre Del cavolo Qualche squadre del cavolo Easy Easy Va benissimo Anzi Aspetta che me la faccio dare anche Perfetto No Stavolta non mi ha aiutato Vai aiutami Aiutami Vai Easy Ok No Non ho volato Non ho volato Stop Stop Sono in un loop Sono in un loop Porca oddio Stai zitto Cuco Porca puttana Porca eva Ma ero in un loop Ok Ti prego Oddio ce l'ho fatta Oddio ce l'ho fatta Miracolo Miracolo No Perché Ok Porca eva Ci ho detto Dai ti prego Dai ti prego Perché Qualificato Qualificato Mamma mia Finalmente Assurdo Assurdo Roundover Ce l'ho fatta Allora Io ora sono distrutto Sono distrutto E affranto Cioè tu guardami Spettatori Futuri generazioni Che guarderete questo video Guardate un uomo affranto Affranto Un uomo affranto Un uomo affranto dal dolore Ok 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 Un uomo affranto dal dolore Questo suono Un uomo affranto Quelle emoji In chat Mi rallegrano Un pochino Ma mi sento lo stesso affranto Ok 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 Mi dispiace Oddio No No non ti preoccupare Ce la posso fare Adesso Ce la posso fare Ce la posso fare Ce la posso fare Esatto Un robot Adesso infatti sto diventando un po' un robot Mi sto zombificando Perfetto Va bene così Va bene così Va bene così Vai spingi 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 No 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 Cazzo Cazzo Va bene spingi Spingimi un po' Spingi 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 Ok Ci siamo Ci siamo Ci siamo Ok Va bene Va bene Va bene No 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 Non ti prego Basta 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 Mi arrendo 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 io ti ringrazio vabbè io vi ringrazio io ringrazio Diana Piuv per aver visto questa live noi ci vediamo in un'altra live dedicata Paul Guys domani io ora non riesco più a farla mi sono depresso riproveremo un'altra volta ciao e buonanotte a tutti buonanotte non terminare ok proviamo ancora proviamo ancora allora proviamo ancora proviamo ancora no proviamo ancora proviamo ancora proviamo ancora visto che avete detto non terminare proviamo l'ultima proviamo l'ultima allora l'ultimissima l'ultimissima questa è l'ultima davvero poi sono un po' stanco perché sono stato al mare con i miei cugini questa è più di una carta igienica assieme questa è più di una carta igienica assieme ricordo più di una sono un mucchio di carta igienica è messa assieme ultime 5 ok ultime 5 partite se vinco tutto a vedere ok ultime 5 posso farci le porte sono easy dai ormai veramente questa si va giù te l'ho detto questa va giù questa non va giù ma questa si che va giù te l'ho detto te l'ho detto questa va giù questa va giù me lo sento porco demonio ma come 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 con me con me no guarda questo razzismo nei miei confronti perché sono un maschio bianco etero bianco etero dai ti prego quello lì è andato giù no dai 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 basta dai basta dai basta dai basta ma ma basta come sei portodemonio, portodemonio ora rimangono io e altre persone Non mettermi quel gioco di pallavolo Non mettermi quel gioco di pallavolo Guai a te Se metti il gioco di pallavolo e quello del virus Qualsiasi gioco a squadre Bandito Guai a te eh Ho visto che volevi mettermi quel gioco a squadre Se lo metti Non ti permettere mai più Non ti permettere mai più di mettere quel gioco a squadre Guai a te Guai a te Guai a te Oh Un gioco insicuro Ok 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 Nessun problema Nessun problema Nessun problema Nessun problema Nessun problema Nessun problema Andiamo Puoi farcela Puoi farcela Va bene Guarda guarda come il maggiore guarda come mi aiuti, mi stai solo aiutando, mi hai aiutato, sono tra i primi questi, i primi qualsiasi mi cazzo, no cazzarola, cazzarola mi fanno più salire, porco demonio, porco demonio, porco demonio, porco demonio eh, non di nuovo, porco demonio, porco demonio, porco demonio, sta palla nel culo, dopo la raccolgo, è il cane, sappiamo tutti che è il cane, ecco, pure, oddio, culo, culo, culo proprio, si vabbè fida porca dia, porca via, 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 Ce l'ho fatta Oddio Culo Culo proprio Non è beccato di queste anni Non è beccato Non è beccato Easy Easy Mi beccato un tutti Oh Adesso 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 Che gioco è? Mai visto? Cos'è sto gioco? Ma che cos'è? Ma che cos'è? Ma che cos'è sto gioco? Questo non l'ho mai visto Lo giuro Questo non l'ho mai visto Ok Ok Ah lancia della verdura Eh Oh mio Dio Ma è difficilissimo Appena pigli la verdura muori Ecco Eri te Sebastian Eccetera Chi è Sebastian? Stai ai lati Ai lati Io mi chiamo Sebastian Nella vita reale Oh mio Dio Oh mio Dio Oh mio Dio No ti prego no Ti prego no Ti prego ste zucchine Come è fatto una A classificarsi Si vabbè Sta zucca Sta banana Oh la banana Via L'anguria Già E il petto Ceppo No dai Ma come fanno Loro Loro Non ho parole Basta 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 Ci rinuncio Basta Ci rinuncio Mi è mai stata richiesta a nome reale credo Sì 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 ero io No mi dispiace ma io adesso mi sono davvero non ho più speranza non ho più speranza non ho più speranza non ho più speranza io non ho più speranza io non ho più speranza io chiudo io ti ringrazio iana più di avermi sostenuto In questa diretta grazie di cuore Eh ma io non ce la faccio più sono distrutto ci vediamo in un'altra live come al solito qui su Rapalo Gaming Channel domani Ciao Direi che posso Direi che andrò Addio Addio No aspetta un attimo Aspetta un attimo Guarda quel numero Non posso andarmene 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 No non posso andarmene Non posso andarmene Non posso andarmene Non posso andarmene perché abbiamo raggiunto tre viewer non posso andarmene tre viewer non posso andarmene non posso andarmene non posso andarmene c'è uno spettatore in più rispetto a me e te quindi io ti do il benvenuto nella mia diretta misterioso spettatore mi chiamo Rapallo Gemincian porto contenuti sui videogiochi e ogni volta che bestemmio mi metto questo pezzo di carta igienica in testa questo è il mio canale se vuoi lasciare un follow mi faresti un grande piacere io in teoria avendo è andato già via non ho speranze non ho speranze ma come faccio ma come faccio a crescere ma come faccio a crescere ma come faccio a crescere mi sono solo presentato mi sono solo presentato mi sono solo presentato non posso neanche presentarmi non c'è andato via beh ormai ho startato sta partita o neanche un altro follower riesco a fare ecco perfetto mi sa che questo è il destino allora questo è il destino speravo speravo io ci speravo io giuro ci stavo sperando ci stavo sperando no ci stavo sperando te lo giuro osper cancer ormai ci sono ci stavo sperando niente non ho possibilità io ci sarò sempre grazie mille Iana Più grazie mille ti ringrazio ti ringrazio di cuore questa devo vincerla per Iana Più per Iana Più devo farcela adesso basta scherzare è il momento di trajardare sul serio è il momento di trajardare sul serio ma che diavolo 224 messaggi di una persona bello grazie mille ora mi sento famoso ok devo tryhardare eccoci qualificato qualificato meno male meno male meno male sono un po' sono sono iolo iolo ho praticamente zero di energia in questo momento io iolo non ho più energia in questo momento sono distrutto ma devo farcela ho gli occhi infuocati ho gli occhi infuocati I have fire ice I have fire no fire ice fire ice I have the fire ice I have the fire ice quindi diciamo farcela ok 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 iolo ok ok lo ok ti prego ti prego Gesù so che ti ho bestemmiato ma dammi la tua potenza per farcela dai so di riuscirci so di riuscirci so di riuscirci so che posso farcela ho paura non ho paura supererò il limite supererò il limite supererò il limite devo superare il limite superare il limite devo farcela devo farcela dai ti prego ti prego ti prego eh vabbè quanto cazzo rotoli però porca Eva no ti prego 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 30 rimasti 30 rimasti 30 rimasti il gioco è vabbè abbastanza passabile anche se è uno dei giochi a squadre questo è l'unico gioco a squadre che è abbastanza abbastanza decente di cui si potrà riuscirci cheat ti prego siamo nella terza squadra ok siamo nella terza squadra sciocco sciocco dammi quell'uovo dammi quell'uovo oh no hanno finto tutte le uova dai dai ti prego ti prego butta via sto uovo dai maledetto uovo ma perché non riesco a prenderlo scusate io lo prendo io lo prendo dai passano no dai stiamo fallendo per favore dai per favore ma ci stanno rubando le uova che stronzi che stronzi dai ma che stronzi ci hanno rubato le uova prendi l'uovo prendi l'uovo ok dai ma ci stanno rubando tutte le uova no basta io davvero dopo questa cosa basta dopo questa cosa basta veramente basta dopo sta cosa sono distrutto no basta basta no non ho parole no non ho parole basta basta non ce la faccio più basta no davvero dopo questa dopo questa dopo questa ok dopo questa io davvero sono distrutto però non mettermi più le uova non mettermi più le uova oh manonna non capisco più a chi fidarmi ok ci provo ok ci provo a provare ci devo riuscire avevo detto fino alle 4 del mattino che ci avrei provato per vincere e ce la ci devo riuscire rimani fino alle 4 è dura è dura ma ce la posso fare è un gioco difficilissimo non ho mai visto un gioco più difficile di questo non ho mai bestemmiato così tanto per questo videogioco e un tempo io andavo a messa tutte le domeniche un tempo andavo a messa tutte le domeniche e invece adesso ho bestemmio per un gioco che è davvero difficile quindi io davvero non so più cosa fare io prego Dio ti prego Gesù se mi stai ascoltando se sei in diretta fammi vincere oh mio Dio guarda quanta gente si assembra ma che è dai fammi dai ti prego ti prego ok questo mi aiuta vai che mi aiuti dai che mi aiuti grande che mi aiuti grande che mi aiuti no questo non mi ha aiutato questo mi sta mi sta aiutando non mi stai aiutando mi stai ostacolando mi stai ostacolando mi sta Ma che cavolo sta succedendo? Ma che cosa sta succedendo? Ma porco Dio, lo posso dire porco Dio? Lo posso dire porca madonna? Ma porco Dio! Ma porco Dio! Ma porco Dio! Ma porco di quel Dio! Ma porco di quel Dio! Ma porco di quel Dio! Ma porco Dio! Ma che cazzo di buono! Non ho parole, profeo guadagnato style point, profeo guadagnato... No dai non ho parole! Dai ma non è possibile! Dai non è possibile! No figa, sette pezzi di carta igienica, otto pezzi! No davvero non è possibile! Nove pezzi... No davvero non è possibile! Non davvero... Non davvero sta cosa è veramente disumana! No è disumana questa cosa! È disumana! Oddio forse! Forse! Sì! Ce l'ho fatta! Poi mi metto tutta la carta igienica addosso! Oh mio Dio! Figa! Ce l'ho fatta! Questa è la seconda qualificazione! Tutti morti! Ok! Figa però io ce la sto mettendo tutta! Ce la sto mettendo tutta! Tutta c'è la sto mettendo tutta l'animo, tutta l'anima, tutta l'anima, tutta l'anima! Tre russo, cosa vuol dire? Mi sto mettendo tutta la mia anima! Non so cosa vuol dire con le parole in russo! E' come capisco che una porta è finta o meno! Ok! Lo so! Il mio istinto mi dice Che quella Che quella si apre! E invece no! E invece no! E invece no! Non so cosa vuol dire queste cose in... In queste lingue Comunque sto bene Magari vuol dire come stai Sto bene E' la madonna pure lei E' la madonna aiuto 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 Lasciatemi stare Lasciatemi stare Lasciatemi stare Dai! Sì vabbè figa che stronzi 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 stron provo domani sono davvero stanco io dire ti ringrazio per la visione ma io fino alle quattro non ci riesco a stare quindi noi ci vediamo in un'altra diretta ciao jana e qualcuno che forse guarderà questa diretta ciao no basta non ci faccio più ci faccio più alla prossima buonanotte e ciao buona serata no non riesco non riesco buona serata buona serata buona serata